Ancora sbarchi a Lampedusa, nati due bambini, uno su un barchino e l'altro al poliambulatorio dell'isola, i migranti nell'hotspot di Contrada in Breacola. A Palermo e Provincia mancano i fondi per l'assistenza in classe agli alunni disabili, per il futuro anno scolastico tante le incertezze. Al via oggi gli sconti stagionali, Feder Consumatori stima un giro di affari di oltre 42 milioni tra Palermo e Provincia. I rifiuti sommergono il quartiere Sperone di Palermo una vergogna che va avanti da diversi giorni e che si ripete nel tempo. Spicca il volo il mercato estivo del Palermo che ha annunciato l'ufficialità dell'acquisto di Vasic e si prepara per piazzare altri colpi soprattutto per l'attacco. Ben ritrovati alla prima edizione del Tg di Media News di giovedì 6 luglio. Apriamo con una tragica notizia. Ancora un incidente mortale a Palermo. Un giovane di 20 anni era alla guida della sua auto quando, per cause ancora da accertare, ne ha perso il controllo schiantandosi contro un albero in Neviale Diana. È accaduto questa notte, poco dopo le due, all'interno del parco della Favorita. Il mezzo ha preso fuoco e per il ventenne, rimasto intrappolato nell'abitacolo. Non c'è stato nulla da fare. È morto carbonizzato. Cambiamo argomento. Ancora sbarchi a Lampedusa. Nati due bambini, uno su un barchino e l'altro al poliambulatorio dell'isola. I migranti, dopo la prima assistenza e le consuete operazioni di polizia, sono stati trasferiti nell'hotspot di Contrada in Briacola. Notte di soccorsi di migranti a Lampedusa. Le motovedette e la guardia costiera hanno recuperato diversi barchini di ferro in baglia del mare con a bordo circa 320 persone. Sono quasi tutti giovani sotto i 30 anni e provengono dall'Africa subsahariana. Tra loro circa 80 donne. Un neonato è venuto al mondo sul barchino, un altro al poliambulatorio dell'isola. Parlano tutti il francese e hanno raccontato al personale delle associazioni umanitarie presenti al molo Favaloro di essere in viaggio da settimane. Hanno attraversato il deserto passando dall'Algeria e si sono messi in mare su piccole imbarcazioni precarie dalla costa tunisina due giorni fa. Alcuni uomini avevano difficoltà deambulatorie e sono stati supportati dai medici presenti al porto. I migranti, dopo la prima assistenza e le consuete operazioni di polizia, sono stati trasferiti all'hotspot di Contrada in Briacola, gestito dalla Croce Rossa italiana, che è tornato ad essere, oltre la capienza massima. Centinaia di persone sono state trasferite con il traghetto di linea diretta a Porta Empeducle e anche questa mattina sono previsti ulteriori trasferimenti. Le ottime condizioni meteo dei prossimi giorni favoriranno sicuramente ulteriori arrivi di migliaia di persone pronte a partire dalla costa tunisina, come hanno raccontato alcuni migranti appena sbarcati. Intanto continuano le tensioni sull'isola dopo la visita del ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, della commissaria europea agli affari interni e Ilva Johansson. Sono state tre le aggressioni di alcuni cittadini di Lampedusa e danni di due giornalisti e di un operatore video che hanno ricevuto pietrate, calci e minacce, danneggiando le loro attrezzature mentre stavano documentando gli sbarchi. Alcuni degli aggressori sono stati individuati e denunciati alla Procura della Repubblica. È stato costituito un movimento, Pelagia Mediterranea, che ha annunciato per lunedì prossimo una manifestazione contro la militarizzazione dell'isola, la sua riduzione a frontiera dell'Unione Europea e la tratta di esseri umani. Un tam-tam partito da un gruppo WhatsApp, invitando tutta la popolazione a partecipare al grido. Siamo disposti a tutto per salvare la nostra isola, senza paura. Passiamo alla cronaca. Scopri i ladri in casa. Tenta di bloccarli ma viene malmenato. I carabinieri di Palermo hanno arrestato tre uomini, autori di una rapina commessa ad agosto dello scorso anno. Tre palermitani e domiciliari con l'accusa di rapina in proprio in concorso. L'indagine dei carabinieri della compagnia Aureto Stazione ha consentito di ricostruire quanto avvenuto un anno fa ad agosto, quando i militari sono intervenuti presso l'abitazione di un 33enne nel quartiere Monte Grappa, vittima di rapina. In particolare i tre malviventi si sarebbero introdotti all'interno dell'appartamento dell'uomo, che rientrando in casa dopo il lavoro avrebbe notato una finestra dell'abitazione leggermente aperta, scorgendo all'interno della casa uno sconosciuto. La vittima pertanto avrebbe tentato di bloccare il rapinatore, accorgendosi immediatamente alla presenza di altri due complici che, nel tentativo di fuggire, l'avrebbero spintonato procurandogli una ferita al volto. Subito dopo la rapina i tre uomini si sarebbero allontanati, portando con sé una refurtiva composta da vari oggetti in ore e mille euro in contanti. Grazie alle testimonianze e alle immagini degli impianti di videosorveglianza installati nei pressi del luogo della rapina, sono stati ricostruiti i movimenti degli indagati, dalle fasi antecedenti al reato, sino alle vie di fuga. A Palermo e provincia mancano i fondi per l'assistenza in classe agli alunni disabili. Per il futuro, l'anno scolastico, tante le incertezze. A mettere in evidenza il problema gli assistenti igienico-personali che, dopo oltre 25 anni di servizio nelle scuole, non hanno ancora una stabilità contrattuale. Scaldano i motori gli assistenti igienico-personali e gli alunni disabili delle scuole di Palermo e provincia. In vista del nuovo anno scolastico, montano le preoccupazioni per il loro futuro. Al momento, infatti, mancano i fondi per il servizio. Un servizio che, comunque, quest'anno è stato assicurato con maggiore continuità, ma gli assistenti, dopo oltre 25 anni di impegno nelle scuole, chiedono la stabilizzazione che offrirebbe una garanzia di continuità assistenziale agli alunni. La situazione a Palermo e provincia è in pericolo quest'anno, l'inizio dell'anno scolastico, perché non ci sono i fondi? E questo ce l'hanno detto apertamente. Manca la stabilizzazione oramai per un servizio che si dà da anni. Qua siamo oramai, credo, forse a più di 25 anni. Quest'anno, effettivamente, diciamo, si è riusciti, anche se abbiamo cominciato a lavorare un po' più tardi, diciamo, dall'inizio dell'anno scolastico, mi pare, agli inizi a metà ottobre. Però siamo riusciti. Ora, che siamo riusciti a lavorare non è, però, come dire, non è stato soddisfacente né per il servizio dato ai ragazzi disabili, né per i lavoratori e le lavoratrici, perché si tratta ancora di 24 ore settimanali. Non copre l'entrata e l'uscita, ma soprattutto l'uscita, dei ragazzi e delle famiglie che hanno difficoltà, diciamo, quando li vanno a prendere. Per questo abbiamo insistito nelle riunioni che stiamo facendo. Abbiamo fatto una riunione con il dottore Logalbo della città metropolitana e una con l'assessore Nuccio Albano dell'assessorato al lavoro. Insistiamo sulla stabilizzazione, perché un servizio stabilizzato significa servizio effettivo per i lavoratori, le famiglie, i ragazzi disabili, con un problema particolare che è quello del salario. Abbiamo chiesto almeno l'aumento delle ore, dalle 8 alle 24 a 30 ore per coprire almeno l'uscita dei ragazzi e delle famiglie che non sanno come fare quando devono andare a prendere, devono andare prima. Attualmente a Palermo e provincia sono 150 circa, sono stati un po' tagliati perché eravamo 200 e più, ma negli ultimi anni, per motivi diversi, per taglio ai fondi, per taglio al numero di ragazzi da accudire e volontariamente da parte del governo per risparmiare noi, questo lo diciamo sempre, viene confermato dai numeri, il numero adesso è di circa 150. A Catania l'allarme di Acoset, non usare acqua potabile per piscine o irrigazione. Si chiede la predisposizione di ordinanze sindacali per il diveto di utilizzo dell'acqua potabile per scopi diversi dall'uso cui è destinata. Emergenza acqua a Catania, il rischio per alcuni comuni serviti da Acoset S.p.a. è che entrino in situazioni di ciclica emergenza a causa della riduzione drastica delle portate disponibili. Lo rende noto l'azienda che si occupa del servizio di distribuzione idrica in vari comuni della provincia etnea, tra cui Catania. Acoset S.p.a. ha inviato una nota formale ai sindaci chiedendo la predisposizione di ordinanze sindacali per il divieto di utilizzo dell'acqua potabile per scopi diverse dall'uso cui è destinata. Si chiede che l'acqua potabile non venga utilizzata per uso irriguo e per il riempimento e mantenimento di piscine per lavare terrazzi e automezzi. Il fine è quello di salvaguardare l'ormai esigua risorsa d'acqua potabile presente nelle falde del massiccio etneo e per evitare drastiche turnazioni nella distribuzione idrica. In Sicilia grandi difficoltà per i pazienti con problemi inerenti la salute mentale. Tra le prime criticità la mancanza di medici specialisti. E della settimana scorsa il presidio della rete di associazioni e famiglie Si può fare Sicilia che ha messo al centro disagi e criticità per i pazienti con patologie inerenti alla salute mentale. Carenze di psichiatri, psicologi e operatori sanitari del settore tra le prime criticità. A tal proposito è stato istituito un tavolo tecnico permanente del quale parla Vincenzo Ceravino di Si può fare Sicilia. Si può fare Sicilia dopo vari mesi di insistenza per un incontro con l'assessore Volo circa le problematiche su cui verte tutta la salute mentale siciliana. Siamo stati costretti a questa manifestazione per sensibilizzare l'assessore. Siamo riusciti ad ottenere un tavolo tecnico a cui faremo parte assieme all'amministrazione per cercare di porre rimedi a questa atavica difficoltà di personale, di tutto il personale della filiera, dagli psichiatri, psicologi, gli assistenti sociali e gli operatori d'appoggio. Perché oggi purtroppo in grande deficit di presenza sul territorio. Noi abbiamo utenti che non riescono ad essere presi in carico come dovrebbe essere perché il lavoro sulla salute mentale non è solo quello farmacologico. Non possiamo riaprire dopo la legge Mavasaglia i manicomi farmacologici facendo rimanere gli utenti presso le famiglie. L'unico sbocco è quello di arrivare al privato ma non tutti, non tutta la popolazione è in grado di poter spendere per i propri cari. Quindi quello che è la risorsa dello 0,2% che una legge prevede che sia speso in favore della salute mentale attualmente non è neanche speso. Abbiamo 23 milioni di euro che giacciono nelle casse delle varie ASP senza una adeguata progettualità in tal senso. Il test di T-Alert in Sicilia ha funzionato. Su tutto il territorio regionale sono state organizzate più di 50 postazioni di controllo e assistenza alla popolazione. Il test di T-Alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale di protezione civile in Sicilia ha funzionato ed è servito allo scopo. Su tutto il territorio regionale sono state organizzate più di 50 postazioni di controllo e assistenza alla popolazione con operatori e volontari della protezione civile regionale in piazze, ospedali, spiagge, stazioni ferroviarie, supermercati, centri commerciali e anche in zone sommitali dell'Etna e di Stromboli. È andata complessivamente bene ma lo diciamo sulla base delle osservazioni che abbiamo fatto ottenute dalle squadre su tutto il territorio. Circa 50 postazioni in piazze, ospedali, stazioni ferroviarie, supermercati, ipermercati, sull'Etna e anche su Stromboli. Diciamo un centinaio tra funzionari, anzi di più dicendo, tra funzionari e volontari che hanno monitorato le reazioni della popolazione all'arrivo del messaggio e hanno anche raccolto le impressioni. La gente è sufficientemente informata, anche i turisti, anzi i turisti forse più preparati dei siciliani all'arrivo del messaggio. Poche scene, anzi nessun momento di panico, di confusione, semmai qualcuno infastidito, un no IT alert infastidito dal messaggio. Si sono verificati diversi casi tuttavia di mancato arrivo del messaggio o di arrivo dopo mezz'ora. Addirittura qui in sala operativa, per telefono di certi operatori, è arrivato dopo un'ora. Quindi alcuni operatori in effetti hanno avuto dei problemi. Comunque complessivamente riteniamo che il numero di messaggi non è arrivato, il segnalo è arrivato, sia stato intorno al 10-15%, per cui l'esperienza è assolutamente positiva, ma questo numero servirà a migliorare ulteriormente. Al via oggi gli sconti stagionali, Feder Consumatori stima un giro di affari di 42,6 milioni tra il capoluogo siciliano e la provincia. Partiti oggi i saldi estivi in Sicilia e Feder Consumatori Palermo, oltre a stimare il volume di affari di questa sessione e a non condividere la scelta della data decisa per l'avvio degli sconti, mette in guardia gli acquirenti con un decalogo per evitare raggiri. Le proiezioni di Feder Consumatori Palermo prevedono mediamente una spesa di 180 euro famiglia per le vendite scontate. Tra i commercianti si respira aria di ottimismo se si pensa alle previsioni del periodo, con la speranza che si riesca a superare l'impasse degli anni passati. La raccomandazione più importante sui saldi è quella di non fermarsi mai davanti alla prima vetrina e confrontare i prezzi, di fidare dalle vetrine tappezzate dai manifesti che reclamizzano sconti pari o superiori al 60%. Occhio al cartellino del prezzo. Su ogni prodotto deve essere indicato obbligatoriamente il vecchio prezzo e quello nuovo. Dal 1 luglio 2022 sono scattate le sanzioni per esercenti che non permettono i pagamenti tramite POS. Conservare sempre lo scontrino quale prova di acquisto. Problemi o bufale devono essere subito denunciati ai vigili urbani all'ufficio comunale per il commercio o a feder consumatori. I rifiuti sommergono il quartiere Sperone di Palermo, una vergogna che va avanti da diversi giorni e che si ripete nel tempo. Una vergogna che va avanti da giorni, questa l'immagine che offre lo Sperone sommerso dai rifiuti tra via Sacco e Vanzetti e via di Vittoria, pochi metri dai plessi scolastici. La puzza nauseabonda avvolge gli abitanti del quartiere, un territorio difficile dai mille problemi per i quali da anni Antonella Di Bartolo, dirigente scolastica, impegna le sue energie. Difficile però spiegare agli alunni e ai loro genitori il perché di tutto questo. La speranza non si perde mai. Di fatto constatiamo che il quartiere Sperone è diventato una discarica a cielo aperto. Ci troviamo in via Sacco e Vanzetti e ci sono cumuli di immondizia senza soluzione di continuità. È da giorni. Abbiamo iniziato a notare almeno da venerdì scorso, in occasione anche del concerto di Radio Italia, abbiamo anche scelto di astenerci dal segnalare perché capivamo che c'era uno sforzo sul fuori italico. Però la situazione è assolutamente insostenibile. Mi hanno chiamato diverse mamme di alunni nostri e mi dicono che non possono aprire le finestre per via dei cattivi odori che questi rifiuti sotto il sole esalano. Per cui è una situazione assolutamente insostenibile. Topi che scorrazzano davanti anche di fronte ai nostri plessi scolastici. Il quartiere penso che meriti molto di più. E tra l'altro vorrei anche spendere una parola affinché non si stigmatizzi lo Sperone. Io assisto ogni giorno alla scena di tante macchine, anche camion, che vengono a scaricare i rifiuti qui, evidentemente pensando che questo sia un luogo che possa accogliere rifiuti in libertà a qualsiasi ora e di qualsiasi genere. Quindi non sono gli abitanti del quartiere che tra l'altro non gode di raccolta differenziata. I nostri bambini sanno perfettamente come funziona la raccolta differenziata ma non la possono mettere in pratica. Dunque penso che sia necessario più attenzione e più cura dei luoghi e soprattutto delle persone. Ponte Oreto a Palermo. Partito il bando per la progettazione esecutiva. I lavori inizieranno dopo l'estate. Ci sarà da aspettare ancora per l'avvio dei lavori in manutenzione sul ponte Oreto a Palermo. La struttura attende tali interventi addirittura dal 2009, quando le opere furono inserite fra le priorità dell'elenco finanziato con i fondi ex Cipe. A preoccupare soprattutto il fronte della viabilità. Le alternative sono poche e lo si è visto già in occasione delle limitazioni sul ponte Corleone. Restrizioni imposte per motivi di sicurezza ma che hanno mandato in tilt più volte il traffico cittadino. Le soluzioni sul tavolo sono diverse. L'idea ovviamente è quella di ridurre disagi il più possibile, evitando di chiudere o comunque limitando la chiusura stradale ad una sola corsia per volta. La prima tranche dei lavori sul viadotto di Via Oreto è stata già assegnata l'8 febbraio dall'Urega. Ad aggiudicarsi la gara è la cantiere dili di Favara, i cui operai saranno chiamati a rimettere in sesto la struttura di collegamento della terza circoscrizione. Purtuttavia i lavori non inizieranno subito, in attesa appunto che vengano completati gli edempimenti amministrativi. A fare il punto sulla situazione è il capogruppo del Movimento 5 Stelle Antonino Randazzo, che ha avuto l'opportunità di chiedere aggiornamenti agli uffici, dai quali gli è stato risposto che quella era la data prevista per avviare i lavori slitterà subito dopo l'estate. Questo è chiaramente un problema per i cittadini, visto che non è possibile attraversare il ponte a piedi e privi di autobus per il divieto di transito ai mezzi pesanti. Su questo si era provato a chiedere dalle navette, ma anche da Amat, alcuna notizia. Questa mattina presso la sede della Fondazione Federico II, oratorio di Sant'Elena e Costantino a Palermo, è stata presentata la quinta edizione del Festival Cinema City. Cinema City torna ad animare l'estate di Palermo dal 17 al 23 luglio con un nuovo cartellone che porta in piazza i cult del cinema italiano e i suoi protagonisti, sempre sotto la direzione artistica di Carmelo Galati. È la quinta edizione, siamo felici di tornare con un'edizione che vuole guardare all'arte come impegno civile e sociale. I film in programmazione affrontano temi universali, che sono quelli del lavoro, dell'amore, del diritto, dell'infanzia. Lo facciamo con una programmazione come sempre che fa un viaggio nei vari generi del cinema e quindi ci saranno film documentari, ci saranno film di interantedimento, non abbandoniamo mai la leggerezza perché siamo al cinema all'aperto sotto le stelle. Ci dedichiamo anche ai bambini come l'ultima sera e proiettiamo un film di animazione. Cinema City firma quest'anno la sua quinta edizione, un traguardo importante che segni il successo di una visione che il cinema può tornare a essere occasione di incontro, ricerca e condivisione attraverso la visione collettiva di film e la possibilità di generare un dibattito sociale costruttivo. È un'importantissima iniziativa sulla quale anche l'amministrazione comunale ha scommesso patrocinando insieme ad altre istituzioni questa appunto iniziativa ed è un momento importante non soltanto per la promozione del cinema, cioè dell'arte cinematografica, ma anche come momento di dibattito, quindi aperto alla cittadinanza sui più grandi temi che in questo momento caratterizzano l'attualità. La conferenza stampa di presentazione si è tenuta all'oratorio di Sant'Elene Costantino presso la sede della Fondazione Federico II di Palermo che collabora con il progetto Cinema City. Sono cinque anni preziosi per Palermo. La conferenza stampa per il secondo anno all'oratorio Sant'Elene Costantino che è sede della Fondazione Federico II ma è uno spazio culturale aperto a questa città, alla Sicilia. E di cultura parliamo perché Cinema City non è l'arena, non è il passatempo ma ci insegna che c'è una cultura del cinema, un'arte, un linguaggio, una visione che va ricordata, una grammatica della cultura attraverso l'immagine, le parole che può essere sottolineata dagli attori, dai registi, dai critici, dalla gente che ama vedere oltre le immagini un significato della realtà, una capacità di anticipazione importante che il cinema ha dato alla cultura italiana, alla cultura in genere. Il cartellone di musica, prosa e danza della Fondazione Taormina Arte Sicilia ha presentato la sua edizione estiva in programma dall'8 al luglio al 18 agosto. Dopo il Taormina Film Festival che dal 1 luglio ha concluso la sua 69esima edizione, il cartellone estivo presentato dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia continua con un programma di musica, prosa e danza che dall'8 luglio al 18 agosto riserva numerose sorprese. La sovrintendente della Fondazione, Esther Bonafede e il direttore artistico Beatrice Venezi hanno infatti lavorato negli scorsi mesi per costruire una serie di accordi di coproduzione e partenariato con enti e fondazioni nazionali e internazionali. Tra queste la Fondazione Luciano Pavarotti con la quale è stato organizzato il galà di apertura dell'intera stagione estiva Pavarotti Forever il 23 giugno e l'Opera Theater de Metz, il più antico teatro d'opera di Francia e centro di produzione per l'opera, la danza e il teatro. Accanto a queste significative sono le partnership di coproduzione con Art Event, il circuito teatrale regionale del Veneto e MUPA di Budapest, che permetteranno anche alle compagnie coinvolte in prime nazionali assolute di poter successivamente far circuitare progetti artistici inediti, il tutto nell'ottica della massima collaborazione anche con gli enti siciliani, con cui si sta svolgendo un percorso di rete positivo al fine di massimizzare la collaborazione tra le eccellenze del territorio, quali il Teatro Massimo Bellini di Catania. Si comincia quindi sabato 8 luglio al Teatro Antico con il trittico Pucciniano, con una coproduzione Torminarte e Opera Theater de Metz, in collaborazione con la Fondazione Luciano Pavarotti. La regia è di Paul Emil Forni, il coro lirico Francesco Cilea, diretto da Claudio Bagnato e la direzione d'orchestra di Beatrice Benezzi. Nel cast, grandi stelle della lirica come Marcello Albarez, Massimo Cavaletti, Marco Ciapponi, Francesca Tiburzi e Annunziata Vestri, sul palco con giovani talenti selezionati dalla Fondazione Pavarotti. Altra peculiarità all'interno del programma sarà Pass For World, lo spettacolo di danza con l'Etoile Jacopo Tissi, in scena giovedì 17 agosto, che darà al grande pubblico l'occasione di avvicinarsi al mondo del balletto con una coreografia ispirata ai grandi maestri del repertorio classico. Ance Palermo ha presentato il libro dedicato all'ingegnere Salvatore Ligresti, scritto da chi ha conosciuto davvero l'uomo che ha contribuito a cambiare il profilo di un'intera città. Salvatore Ligresti, nelle parole di chi lo ha conosciuto davvero, collaboratori, familiari e personalità della politica e dell'imprenditoria. È nel nome del padre che Paolo Ligresti, figlio di un ingegnere venuto da Paternò, ma capace poi di entrare prepotentemente nel salotto buono della finanza italiana del secolo scorso, ha deciso di raccontare e far raccontare a chi l'ha conosciuto, a chi ha lavorato al suo fianco, la storia di un uomo nato in un piccolo paese della Sicilia in provincia di Catania, un modo per rimettere in ordine i pensieri e al loro posto gli aspetti di una vita che ha varcato i confini della cronaca. Ho voluto scrivere questo libro in qualità di figlio maschio per far conoscere le persone che magari non lo conoscevano perché poi sui giornali hanno scritto cose diverse di lui, invece il libro racconta un po' l'esatto ingegnere Ligresti. A questo puzzle di suo padre mancano ancora pezzi? No, direi con questo libro siamo riusciti a rimettere insieme un po' il puzzle che era stato smontato da qualcuno. Magari qualche altro pezzo si poteva inserire, però questi bastano e avanzano anche sicuramente per far tornare in sorriso a chi l'ha veramente voluto bene. Anche il presidente del Senato, la Russa, racconta Ligresti segreto. Io ero molto amico del papà di Ignazio, del senatore, e lui era molto amico di mio papà e io sono molto amico del figlio di Ignazio e viceversa, quindi anche i figli si frequentano. Quindi c'è una familiarità tra noi e la famiglia russa molto molto importante. Poi li ha portato bene perché lui quando ha scritto il libro non era presidente del Senato e quindi ha dato magari una forza maggiore a noi. Un ricordo intimo con suo padre? Va le vacanze in spiaggia, io e lui a mangiare al Tanca Village. Noi andavamo sempre in vacanze a Villa Semigusse o quando veniamo qua in Sicilia a Capotormina a Naxos tutti stavano al tavolo a mangiare, io e lui eravamo per ultimi, ci mettevamo nel tavolino, io e lui e chiacchieravamo da soli. Presidente, la burocrazia è ancora oggi un ostacolo per le imprese del vostro settore o sono stati fatti passi avanti? Sono stati fatti passi avanti e il sistema delle imprese del mondo Ance si è fortemente strutturato anche in termini di qualità e di legalità proprio per avere le carte in regola e per contrastare laddove ci siano elementi non chiari nel rapporto con la burocrazia. Un suggerimento di Ance per le incompiute di Palermo? Il messaggio di Ance sulle incompiute è quello che nasce esattamente dal famoso osservatorio cittadino edilizio cioè metterci tutti intorno a un tavolo, ciascuno con le proprie competenze, rappresentando il mondo che rappresenta per trovare le soluzioni condivise all'interno dell'alveo della normativa che oggi dà molti spazi per consentire in modo veloce il completamento finalmente di tante incompiute che sono davvero un peccato mortale non completare e che vanno a danno dell'economia di tutti i cittadini parmitani. Il 110 è una misura che è stata giusta ma che il governo ha deciso di stoppare la cessione dei crediti e questo ha paralizzato totalmente il sistema delle imprese edili che hanno iniziato cantieri e che non riescono a completarli proprio perché non riescono a cedere i crediti. Santa Venerina, post sisma, pubblicato il bando per la ricostruzione della chiesa di Santa Venerina. È stata indetta dalla diocesi di Aciriale nella qualità di stazione appaltante una procedura aperta per l'affidamento dell'appalto dei lavori di riparazione del danno e miglioramento sismico della chiesa di Santa Venera di Santa Venerina gravemente danneggiata dal sisma del 2018 con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'importo dei lavori ammonta a 943.945,51. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 31 luglio. I documenti di gara sono fruibili su tutto gare. I finanziamenti sono stati erogati dal commissario straordinario Salvatore Scalia, commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania. È stato un percorso non facile. L'auspicio è che si possano iniziare e concludere al più presto i lavori. Per numerose altre chiese verranno presto bandite altre gare. L'importo finanziato di 1.185.000 è complessivo e l'importo invece dei lavori sono circa 940.000 euro. Siamo giunti alla fase di affidare i lavori ed è stato scelto il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa proprio per qualificare l'intervento da eseguire. Il bando è già stato pubblicato e l'offerta dovrà pervenire entro il 31 luglio del 2023, ore 12. Ci auguriamo tutti quanti che presto la chiesa possa essere riaperta e ridata alla cittadinanza e a tutti i fedeli. Finalmente la popolazione, i parrocchiani, iniziano a guardare la realtà con speranza. Iniziano a vedere la luce oltre il tunnel. Ci auguriamo che tutto vada per il meglio. Il 31 luglio si concluderà, è la data ultima per la presentazione delle varie ditte. Ci auguriamo che non ci siano intoppi e che presto, passato anche il periodo delle ferie estive, possano iniziare i lavori tanto agoniati per poter presto entrare presso la nostra casa, il nostro tempio. E passiamo al calcio. Serie B spicca il volo in mercato estivo del Palermo che ha annunciato l'ufficialità dell'acquisto di Vasic e si prepara per piazzare altri colpi, soprattutto per l'attacco. Ritiro al via le prime parole di Corini. Il calcio mercato estivo del Palermo spicca il volo. Dopo l'arrivo del difensore Lucioni, la società di Viale del Fante ha annunciato l'ufficialità dell'acquisto di Aliosa Vasic. Il fantasista classe 2002 anche nell'ultima stagione si è messo in gran luce con la maglia del Padova. La società del presidente Mirri lo ha blindato con un contratto fino al 30 giugno del 2028. A proposito di rinnovi, dopo quello di Buttaro, il numero uno dei Rosa, Mirko Pigliacelli, ha allungato il proprio matrimonio con il club con un nuovo accordo fino al 2025. Ma i movimenti della società di Viale del Fante sono continui e a breve si attende l'ufficializzazione degli arrivi degli attaccanti Mancuso e Ceccaroni. Sul taccuino di Rinaudo rimane sempre Roberto Insigne, per il quale ci sarebbe già un accordo di massima. La squadra intanto si trova a Veronello, dove è iniziato un primo raduno, a cui si riferiscono le immagini pubblicate dal sito ufficiale del Palermo, in vista della partenza per il ritiro di Pinzolo. Per il tecnico Corini ci si prepara per una stagione che si preannuncia. Densa di soddisfazioni. Le parole dell'allenatore. Sì, l'anno scorso è stato per me importante. Abbiamo radicato un'idea, un'identità. Abbiamo affrontato delle difficoltà, le abbiamo superate. Abbiamo sognato di arrivare a un obiettivo che non era preventivato, ma ci siamo stati molto vicini. Quel mancato obiettivo sarà l'energia fondamentale per permetterci quest'anno di avere ancora più motivazione e più forza per fare una grande stagione. L'imperativo è una forte motivazione, l'obiettivo fondamentale di vestire dei colori è una maglia molto importante che pesa, ma che ti può dare grande forza, energia, che dunque ci stiamo preparando al meglio già da oggi per far sì che la nostra stagione sia piena di soddisfazioni per noi e per i nostri tifosi. Il direttore Gardini, nell'intervista e nel bilancio di fine anno, ha parlato chiaro di quello che è stata la stagione scorsa, di quelli che saranno gli obiettivi per questa che andremo ad affrontare con una linea molto chiara che rispieghi le ambizioni della città, della nostra tifoseria e dunque sappiamo bene dove vogliamo arrivare attraverso il lavoro e daremo il meglio per far sì che questo possa accadere. Questa era l'ultima notizia, anche per oggi è tutto, vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento alle prossime edizioni di Media News. Grazie.